Le donne hanno riconquistato le piazze, i luoghi della vita, rivendicando rispetto, declinando diritti e un'idea importante di dignità. All'indomani della manifestazione nelle piazze italiane contro il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, le donne del PD pugliese si sono riunite nella sede regionale del partito a Bari per dare vita alla prima conferenza tutta al femminile presieduta dall'assessora regionale all'Uelfare Elena Gentile. Fra loro anche il presidente e il segretario del partito Michele Emiliano e Sergio Blasi. La manifestazione di ieri, addetto Emiliano, raccontava il paese che vogliamo costruire. Il nostro intento ha continuato e quello di modificare le leggi regionali sulla parità di genere. Una proposta che piace anche alla Gentile. Già nella scorsa legislatura ebbe in modo di presentare un emendamento che poi era il frutto di una discussione molto aperta, molto trasversale. Io penso che questa conferenza possa autorevolmente cimentarsi su un profilo di nuova legge elettorale che salvaguardi il principio della selezione democratica delle candidate in base alla capacità, al talento e anche e soprattutto alla capacità di raccogliere consenso. Un'alternativa politica, sociale ed economica l'ha definita il segretario Blasi che servirà, secondo il segretario, a vincere la sfida della modernizzazione di questa parte del paese. Toccherà ora agli uomini del partito mettersi un po' da parte e sostenere anche finanziariamente le proposte, come sottolinea l'onorevole Anna Paola Concia. Io proporrò che la quota che io do al mio partito, al partito pugliese, da marzo venga devoluta all'assemblea permanente perché questa assemblea sarà importantissima e ha bisogno di gambe per camminare. Noi abbiamo bisogno di fare politica, di conquistare la fiducia delle donne italiane con le donne pugliesi e abbiamo bisogno di fare proposte concrete alle donne pugliesi, attraverso le donne pugliesi alla società tutta.